canici caniche bentrovati oggi commenteremo la parabola del figlio prodigo quarta domenica di quaresma anno ci come abbiamo sentito beh una storia notissima diciamo è anche molto chiara non c'è molto da aggiungere da dire direi che possiamo dare soltanto delle brevi suggestioni ecco suggerimenti di lettura ma di fatto non non c'è molto da aggiungere talmente chiara talmente trasparente questa parola comunque la prima scena il figlio che chiede al padre la sua parte di patrimonio devo andarmene eccetera eccetera e qui colpisce un po la l'ingratitudine del figlio non dice neanche grazie al padre per quello che gli dà e notate che purtroppo sono scene che si vedono ancora oggi quanto sento quanto posso sapere parlando con le persone alcuni figli si comportano ancora così pretendono tutto dei genitori quando i genitori hanno ciò che viene richiesto questi neanche ringrazio neanche li considerano abbastanza frequente purtroppo ancora oggi trovare questo comportamento e parlo di comportamenti anche brutti rischiosi figli che si andano di casa che si perdono nella droga o nel gioco o altri altri comportamenti a rischio ecco salvo poi tornare nei genitori a chiedere di pagare i debiti di avere dei privilegi che a cui peraltro hanno rinunciato di questa è la visione sociologica la visione della società moderna conosce ancora purtroppo queste situazioni dolorose notate che lui arriva a perdere tutto il figlio tra parentesi spesso questa parabola viene detta del padre misericordioso cioè si sposta l'accento sul padre piuttosto che sul figlio comunque il figlio a un certo punto si trova nel bisogno e si converte diciamo così cambia idea quando si trova nel bisogno cioè deve sbattere il muso come si dice per poter cambiare idea è un allora viene in dubbi ma è un pentimento vero sarà sincero questo pentimento è legato soltanto la situazione di bisogno in cui si è trovato eccetera eccetera non lo sappiamo non sappiamo il testo non lo dice non sappiamo se il figlio torna definitivamente a casa se poi magari dopo sei mesi ci pensa se ne va ancora non sappiamo di fatto si trova in una situazione di necessità di bisogno problemi indebitato comunque con problemi finanziari eccetera e cosa fa va a pascolare i porci notate che questo è il lavoro più orrendo più terribile che si potesse pensare ai tempi di gesù intanto perché i maiali il maiale ancora oggi del resto per gli ebrei è impuro animale impuro non si può mangiare gli ebrei non mangiano il maiale lo scansano perché potrebbe trasmettere malattie quindi così come altri cibi non so le cozzole vongole via dicendo non vengono mangiati dagli ebrei osservanti quindi arriva arriva a mangiare a rubare le carrube il cibo dei maiali quindi la cosa terribile orrenda veramente la disgusto si sentiva questa parabola e te l'ebreo si disgustava successo sto ragazzo e poi allora rientra in se stesso cioè deve toccare il fondo per risalire a volte bisogna proprio toccare il fondo per poter risalire poi sono situazioni dicevo appunto cui il signore permette che ci troviamo per farci capire le cose che altrimenti non capiremo dobbiamo volte arrivare a toccare il fondo per poter poi risalire rientra in se stesso e te lo dal padre ripeto non sappiamo con che convinzione non sappiamo se ci rimane per sempre se poi magari riparte se ne va a escedere eccetera quindi e dice ho peccato e questa è la chiave un po di tutto il testo ho peccato riconoscesi i peccatori purtroppo mi capita di parlare con persone a volte mi dicono massa padre io sì vabbè non ho peccato che peccato fatto non rubo non ammazza nessuno non tradisco mia moglie mio marito non bestemmio che peccato fatto quindi persone che si considerano impeccabili senza peccato insomma anche con la anche colpa nostra dei preti anche colpa della chiesa per carità evidentemente abbiamo rinunciato per troppo tempo a mettere accento sui peccati e a privilegiare invece altre dimensioni comunque primo passo per una vita spirituale è riconoscersi i peccatori e senza questo riconoscimento che facciamo siamo perfetti siamo impeccabili e perché devo andare a confessarmi dalla inchiesa farla come non è perché sono senza peccato quindi ricordiamoci che il giusto pecca sette volte al giorno diceva un antico proverbio il giusto pecca sette volte al giorno sicuriamoci perché non siamo giusti e allora ecco importante prendere coscienza dei nostri peccati esami di coscienza la sera magari fermarci cinque dieci minuti di pensare la giornata e vedere un po come è andata se abbiamo commesso delle mancanze piccole o grandi essenziale prendere coscienza punto sono di coscienza per quello notate che il padre lo scuta già da lontano vede lontano che era lui lo riconosce non so probabilmente dall'andatura da e lontano una persona anziana da lontano non vede bene però lo riconosce lo stesso probabilmente dico dal modo di camminare eccetera egli corre incontro fate che in un anziano a parte che correre anche pericoloso rischioso magari cade si rompe un femore eccetera però lui corre prende va di corsa e poi non è beccoroso scusate un anziano che corre non si è mai visto ecco qui allora il padre che si mette in una situazione di pericolo di rischio addirittura per andare incontro al figlio e si commuove si commuove pensato un anziano che piange comunque ha una commuzione molto forte e soprattutto non lo rimpovera non c'è scritto nel testo che il padre rimpovera il figlio mi dice sciagurato ero in pena per te eccetera no manco per niente manco per niente lo accoglie lo accoglie basta io ho in mente quel quadro straordinario di rembrandt che useremo appunto per pubblicare questa omelia rembrandt fissa il momento dell'incontro tra il padre e il figlio notate che le mani del padre sono diverse fateci caso una mano è maschile più rubida meno curata l'altra femminile più curata più affusolata eccetera quindi sembra che rembrandt voglia darci una dimensione di un dio che sia maschile che femminile sia maschio che femmina quindi da parte c'è la preoccupazione virile no il padre uomo che pensa che dall'altra c'è l'accoglienza che tipicamente femminile ecco allora capiamo un po di più qualcosa di più su su dio e poi e poi il figlio diventa sposo c'è scritto portateli visto più bello e rivestitelo un vestito nuziale probabilmente qualcosa mettete gli anello al dito altro segno nuziale i calzari e piedi evidentemente era scalza dalla piedi nudi perché manco le scarpe aveva portate il vitello grasso quindi pranzo di prima classe pranzo di nozze notate che il vitello presso gli ebrei era simbolo del sacrificio quando un ebreo prima di gesù faceva un peccato andava al tempio acquistava un animale piccolo se il peccato era piccolo grande se il peccato era grande e lo faceva sacrificare e questo è il modo di confessare le sue colpe essere per così dire purificato dalla sua colpa e il vitello si comprava quando il peccato era grosso hanno fatto un peccato grosso una scemenza grossa comprava un vitello e lo faceva sacrificare i sacerdoti e così anche qua c'è questo riferimento molto comprensibile gli ebrei ripeto a quei tempi quindi questo vitello è un simbolo del sacrificio di espiazione poi Gesù aveva detto basta no non serve più sacrificare vitelli do io la mia vita una volta per tutte per purificare i vostri peccati cosa che poi ripeterà anche san paolo eccetera eccetera ecco allora che se questo dio padre madre di fronte al sacrificio sacrificio del vitello ma poi è il figlio che si sacrifica e ha detto ed era il padre che accoglie figlio non sappiamo fino a quando quante volte devo perdonare maestro sette volte sette no non sette volte sette settanta volte sette pensabili addirittura ed è così anche il padre intanto accoglio i figli e poi non sappiamo se rimane se riparte se di nuovo fare bizze eccetera eccetera e quindi e quindi e quindi а abbiamo un dio che ci accoglie sempre se vogliamo essere accolti ovviamente no come dicevo prima se non riconosciamo i nostri peccati ma neanche il padre eterno e può fare nulla perché non siamo peccatori non ci riconosciamo peccatori ma che scopo il di primo primo approccio di unità espirituale seria e riconosce questi peccatori non sappiamo quali sono i peccati va bene il catechismo abbiamo fatto tutti quindi magari a rivederci un po il catechismo di prendere conoscenza di quelle che sono le mancanze peccati eccetera e poi riflettere sulla nostra vita interiorizzare coscientizzare le mancanze che allora avremo dei progressi notevoli resta l'ultima figura il secondo piano però comunque presente il fratello maggiore arcigno acido dice ma io sono sempre stato qua questo invece è andato con le prostitute ha speso un capitale carità questo fratello si possono magari avvisare anche comportamenti del clero un prete che sgrida un peccatore quando si pente non è un buon esempio il penitente che dice ma insomma questo mi ha sgridato perché devo tornare a confessarmi o parlare con questo sacerdote questo prete questo religioso questa suora eccetera e quindi ecco importante è non sgridare accogliere accogliere poi gradualmente far capire l'errore condurre con carità con dolcezza la persona il penitente a non ripetere se possibile questa mancanza se è possibile se è possibile però se la persona torna settanta volte sette e va perdonata settanta volte sette se è pentito ovviamente ecco allora finiamo con le parole di san paolo che è sempre meglio che è terminale con parole umane diciamo comuni dice paolo è stato dio a riconciliare a sé il mondo in cristo non iputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola di riconciliazione noi fungiamo quindi da ambasciatori per cristo come se dio esortasse per mezzo nostro lasciatevi riconciliare con dio lasciatevi riconciliare con dio non l'opponente resistenza l'intenzione del padre è quella di riconciliare ci con lui non facciamo resistenza non cominciamo a dire no ma in fondo non ho fatto niente che devo riconciliare con chi ma sicuro quello atteggiamento più sbagliato e allora ecco arrendiamoci alziamo bandiera bianca come si dice arrendiamoci al padre perché il suo interesse è proprio questo ricondurci tutti quanti a lui grazie per l'ascolto arrivederci alla prossima buona domenica